incredibile ma vero, proprio il giorno della Befana poi mi è stato consegnato un fumetto che avevo ordinato su ebay tre mesi fa, era il 7 ottobre diciamo esattamente domani avrebbe compiuto tre mesi e mi è arrivato il giorno della Befana anzi mi sono stupito pure che il postino, anzi era una postina consegnasseli sabato mattina al negozio evidentemente hanno lavorato almeno la mattina e mi è arrivato questo fumetto di Deadpool presenta Slapstick eccoli qua, e vedrete chi cappero è Slapstick, cioè Deadpool ok ma Slapstick praticamente è un personaggio appartenente sempre all'universo Marvel se ho ben capito fu inventato tipo inizio anni 90 praticamente con gli stessi poteri che potrebbe avere The Mask quindi praticamente è un cartoon animato vivente che ha fatto parte anche dei mercenari per soldi quindi della banda di Deadpool e nel 2017 gli è stata dedicata un'altra miniserie di 1, 2, 3, 4, 5, 6 capitoli un'altra miniserie a Slapstick eccolo qua e devo dire una serie che mi interessava soprattutto per l'umorismo per l'atmosfera quella molto ecco da cartoon eccolo qui e sinceramente non speravo manco più che mi arrivasse ma con un piccolo ritardino ce l'ha fatta c'è anche qualche citazione al trono di spada e qua c'è il trono di giochi quindi ci sono anche riferimenti insomma alla pop culture e mi pare di aver visto che c'è un personaggio che ha la testa di Graucio più o meno eccolo qui eccolo qui quindi c'è anche una citazione al mitico Graucio e qui c'è per Anna Chiara? eh e questo è quanto gente buona befana a tutti